Ciao. Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Barbara D'Urso sta trascorrendo delle meravigliose vacanze dopo la sua separazione da Mediaset. A partire da settembre, non sarà più lei a condurre il programma Pomeriggio 5, poiché è stata sostituita da Mirta Merlino. Tuttavia, questi giorni sono stati piuttosto intensi per lei dal punto di vista lavorativo. Secondo il settimanale Gente, Barbara è stata sorpresa mentre riceveva notizie decisamente positive. Il pubblico dovrà abituarsi all'assenza della nota presentatrice televisiva italiana, da Canale 5, ma dopo i problemi con Mediaset, potrebbe presto tornare a essere una grande protagonista sul piccolo schermo. Le ultime indiscrezioni sono finalmente positive. Quindi potrebbe presto lasciarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi mesi. Pier Silvio Berlusconi l'ha resa molto triste. Ma ora per Carmelita potrebbero aprirsi altre opportunità altrettanto significative. Barbara D'Urso. La svolta dopo l'addio a Mediaset. Dopo aver assimilato le cattive notizie, Barbara D'Urso sta ricaricando le sue energie per metterle al servizio di qualcun altro. Dopo Mediaset, c'è stato molto mistero intorno al suo futuro. Ricordiamo che il suo contratto scadrà nel mese di dicembre. Ma ora sembrano aprirsi delle opportunità importanti. È stata sorpresa mentre era a Maratea e, a quanto pare, ha iniziato a ricevere delle conversazioni telefoniche che sembrano essere promettenti. Ecco quanto rivelato dal magazine Gente. Il suo smartphone squilla in continuazione. Costringendola a rimandare il tuffo. E dal sorriso che le strappa la conversazione sembra ricevere solo belle notizie. Il telefono. Dall'espressione sorridente e soddisfatta che esibisce. Sembra portare solo buone notizie. Che sia qualche nuova proposta di lavoro? Qualcosa si muove? Non resta che attendere qualche settimana per scoprire tutto. Non si sa con certezza se quel sorriso fosse dovuto a questioni personali o professionali. Ma la sensazione è che tra poco tempo scopriremo davvero cosa farà nel piccolo schermo. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.